E' necessario che all'indomani delle elezioni nel Partito Democratico ci sia e ci debba essere e ci sarà per quel che mi riguarda un momento anche di riflessione molto serio su che cosa è questo partito, dove deve andare, con chi deve andare, per fare che cosa. Però al netto di tutto questo oggi non c'è alternativa. Non mi dite che la soluzione e l'alternativa rispetto a questo possono essere le liste civiche. Quindi avere un Consiglio regionale con un Partito Democratico forte, riconosciuto, che dia un assetto anche politico a questo governo, a questa maggioranza, è fondamentale. E' una premessa per poter tornare a discutere di politica, per poter tornare a dire io mi candido, faccio parte delle istituzioni, perché faccio parte di un progetto politico, perché sono un politico, perché voglio fare politica e voglio assumermi la responsabilità. Questo è quello che mi ricordo di scoprire, perché dà le istituzioni ai giovani e alla politica. Grazie.